Ok, andiamo! Prepararsi a voltare a sinistra Voltare a sinistra Alla rotatoria, prendere la prima uscita Uscire adesso Alla rotatoria, prendere la prima uscita 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 Prepararsi a voltare a sinistra Voltare a sinistra Tenersi a destra E poi voltare a destra Voltare a destra Voltare a destra Voltare a destra Alla rotatoria, prendere la prima uscita Alla rotatoria, prendere la prima uscita